salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video quest'oggi sono in torrente oggi il 6 marzo per l'apertura alla trota torrente quest'oggi cercheremo di trovare le trote in libera quindi sarà un'impresa ardua per questo ragazzi mi raccomando lasciate like condividete video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti superiamo i 200 like per un video del genere per dimostrarvi che vi piace la trota torrente per così posso portarvi qualche bel progettino che c'è in mente su dei posti molto singolari dunque guardate qua sotto anche la descrizione che avevo messo un po di attrezzatura di link amazon dunque direi di non perdere altro tempo e via con il video allora come vi dicevo quest'oggi siamo qui con l'apertura con il caro pozzino ciao conoscete come il vecchio meme del canale uno dei più vecchi quest'oggi si va belli leggeri perché comunque l'apertura molto pressata e zona libera tra virgolette sarà un'elevata pressione no c'è un'elevata pressione di pesca i livelli e soprattutto anche il fatto che c'è molta gente che porta a casa perché non siamo in zona in zona no kill integrale inoltre abbiamo i livelli che per questa siccità sono molto molto bassi quindi un'altra difficoltà in più e anche quello sicuramente non giova il fatto delle trote saranno sicuramente più sospettose quindi speriamo di far uscire qualcosa quindi diamo via le danze no tranquillo non c'è un cazzo te lo dico subito non sei mica in zona trofeo la no la non penso che sia la non c'è neanche acqua non penso che come andare avanti là non c'è neanche acqua c'è scusa perché qua non c'è manco una trota che cazzo chi lo sa che è figa qua in mezzo alle rocce dovrebbe stare tanto il pesce non c'è come non pigliare un cazzo parte 1 andare su un posto dove non vedi neanche un pesce micro trota ma che non c'è cosa hai trovato no Vedici? Qui ci sono troppe grosse Dovano prendere però E se ci sono ancora Tu vuoi incollare me Ce l'ho Eccolo i ridi Comunque se vuoi un Un bel cucchiaino Se lo trovi Prenditi il vertix Col pattern nero Tira un sacco Non so se ho toccato il fondo Erano mangiate Non ti aspettavi tutti sti pesci da me Ben due Di prendere Perché secondo me Poteva essere benissimo Tempatica Probabile Max che fa ben due trote In un video In un video Sì Questa è bella Bellissima Allora E lo so E lo so Lo so E va Ecco Trappato No no Tranquillo Sono rovinatissime Vedi No no E' vero Qua Si Ma è perché è piccola La tua La tua per esempio Sembrava selvatica Guarda questo Questo è un pesce d'acqua Questi sono i pesci che buttano Per legare Per esempio Dai però Come prima volta Così in torrente Vera e propria Me la sto cavando dai Allora Ti ricordo che sei in Viva Eh appunto Ancora di più Per quello Cioè Dico Me la sto cavando bene Anche perché sono in riva Non è che sono in riserva Prisa Bella 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 d'Italia Aspetta questa E' Fario Fario si Aspetta fermati Ma teni in acqua Wilde anche questa Bella Questa è una bella wilde Fammi un'altra foto qua Mi spiace No questa merita una foto bella Questa è bella bella Eh ma il Vertex tira Ma mangialo sul fondo Ma io Boh penso di essere Poco più alto dal fondo No comunque anche questa è una bellissima Trota selvatica sai Bellissima anche questa Cristo Cioè questa è proprio Tipica trota wild dell'agno Sai che è più grande di quelle che ho preso stamattina in trofeo Tu non hai capito niente Libera tutta la vita Ma sarà Eh sarà 32 anche lei Sì Sì bellissima Però ho capito che Eh si è affezionata al mio guadino Ma guarda che non neanche più mangiate Le avrò bucate tutte Dove provo a cambiare angolazione Vedere se cambia qualcosa Vedere se cambia qualcosa Presa Presa La mini Vabbè dai che c'è rilisa What schools? Vedere Vedere Th hai